Il primo incontro della portata musica Academy stasera abbiamo con noi un attore, un regista, un musicista, un presentatore, un cantante ma soprattutto l'amico mio del cuore Maldonzo Casario L'amico del cuore fa paura a me, se mi ricordo il film, come stai qualcuno? Non tanto Buonasera Eccomi, io purtroppo non ho avuto modo di aspettare oltre perché purtroppo c'ho altre concerto che sono a teatro, televisivi di alto livello Go to show, già io, la trasmissione, non lo fio Allora ci devo andare per forza, per questione di promozione dello spettacolo perché insomma è un colpo l'occasione per invitarmi sono al teatro delle palpe con uno spettacolo che si chiama la musica mi giriamo, quella lì è la locandina più o meno perché in effetti è vero, io sono un attore per sbaglio io lo dico sempre, quando vedi una gente come devi fare l'attore, non c'è uno zappi che mi succede perché io tutto avrei fatto nella vita tranne l'attore per lo dico fino a un certo punto della mia vita e poi invece una serie di cose mi hanno portato a fare gli eventi e io invece nasco come musicista quindi il mio luogo ideale era dietro alla batteria dove sono stato sì, ma insomma, ma in media come ce l'ho io perché non è più un batterista, quello è un'ecca, sono batteristi però c'ho un passato da musicista, vero adesso Olga, se puoi smetti dai, ce l'ho a puoi fare andiamoci l'altra si, andiamoci l'altra si che vuoi sentire? ecco, video internet se ne so, per ragionare il posto internet vieni, salire perfetto bene, l'abbiamo provato una di volte grazie questa è una magnifica storia la vuoi sentire? 50 anni in un nuovo, inattirabile non ho mai fatto sentire in realtà che ti ricordi? ma tu te lo ricordi che io sono trovata, eh sì? eh, non ce l'ho bisogno perché rimango qui ma che amore che sono è questa, è una risposta che mi fai giù no ma un uore è una risposta è una risposta, è una risposta è una risposta senti, cia io vengo a salerno per un lavoro e chiedevo non è che potrei dormire qualche notte da te e tu che dici? eccomi qua non ho mai avuto un minuto così peggio ci vorrà, ci vorrà, ci vorrà e poi mi sono dalle e non mi sono dalle oh, c'è solo una vista buona oi, tu vai bene ok, non mi ricordo e non va bene allora, non ti dici, ma non mi ricordo che è ora daメo sai perché la memoria a tutti la guardano non ci hanno risposto non voglio sapere la professora che va provando voglio sapere non vediamo è il tuo banco no no è il tuo banco no oh 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 Io non mi ricordo di più, ma sto mettere il ricotto. Grazie a tutti. Il tuo film, che era Una donna per la vita, era anche in quel film, attore e regista. Quest'altro film è anche stato sia attore che regista. La domanda è semplice. Quale di i tuoi film è stato più difficile per te girare? E soprattutto poi adesso quale sei più affezionato? Anche se chiaramente l'ultimo è quello più fresco. Però che differenze ci sono state tra il primo e questo film? Allora, il primo film, Una donna per la vita, è un film più complesso. Io non so se ne avete visto uno, tutti e due, se ne avete visto nessuno di due. Un film è sicuramente più complicato, è complesso proprio sul piano della narrazione, sulla scrittura. È un film più originale per certi versi. Tant'è vero che la litica è che non è il buono, perché è il film. In quanto noi abbiamo un'Italia fatta di stereotipi. Tu sei un comico e a famiglia. Se tu sei un comico che però vuole dire un'altra cosa, continuando a farlo, cioè senza rinnegare da dove vieni, puoi provare a dire qualcosa di nuovo, ottieni un muro, un muro fatto di gente che non guarda manco di chi si tratta. C'è un episodio classico, in quello dell'altro film, ci fu un critico, anche piuttosto importante, che mi scrisse che il finale banalmente arrivava a una conclusione. Quando io l'ho incontrato, gli ho chiesto qual era il finale del film e lui non l'aveva visto. Quindi lui aveva deciso che banalmente finiva così, ma non lo sapeva come finiva il film, che non era banale per niente, perché c'era la sorpresa più forte di tutto il film, era proprio negli ultimi 3-4 minuti di film. Ma andato e lui con il DVD era andato avanti e non si era guardato il finale, ed era arrivato al pre-finale, aveva deciso che era banale e quindi l'ha anche scritto dall'altro. Però come si dice, non è che lo puoi pigliare schiaffi, vorresti, ma non lo vuoi fare, perché in realtà mi ha fatto sempre con la pubblica, però questo non è detto che non l'abbia fatto, vuotarsi, però non lo confesserei mai, ma insomma, lui ha detto, come ti devi stare? E quindi quel film là era più complesso. Questo qui invece è un film che io ho fatto proprio a seguito della riflessione dopo quel film e ho capito che era un percorso che era difficile percorrere e allo stesso tempo arrivato in qualche modo deluso una parte del mio pubblico che invece avrebbe voluto più divertimento nel film. Allora, è quindi un film più comico, proprio nella sua struttura. In quest'altro film, quando è stato il momento che è venuta l'idea, è in me la scrittura che ho scritto, che sono regista eppure autore, però a quattro mani con un ragazzo che si fa, il gesto che non è una persona con cui lavoro spesso anche per il teatro e altre cose, ci siamo detti. Partiamo dal presupposto che questo film mi deve far vivere. Quindi è una storia molto meno originale, nel senso che è una favola molto semplice, volutamente con una trama molto semplice ma non banale, perché anche qui ho avuto una piccola discussione con un altro critico che diceva una storiella gracile. E si dice, però si dice gracile, è sinonimo di una cosa malaticcia, no, a voi viene una luce gracile, non mi dà la sensazione di una cosa semplice. Invece esiste un termine molto bello, nella semplicità, perché se no tu che ti posso dire, un film come La vita è meravigliosa, che cos'è quella storia? E' una sciocchezza, c'è un angelo che deve mettere le ali, che deve fare la buona azione, l'angelo custode di un signore che deve fare la buona azione lasciando il libero arbitrio. Quindi fa gente di capire che lui sta facendo una sciocchezza perché si sta per suicidare, non so se vi ricordate la storia, ma è una sciocchezza enorme. Eppure secondo me è uno di... è gracile, no? Però è una gracilità di quelle granitiche, perché è un film che sono passato a letto del 40, quel film è un film immortale, che probabilmente chiunque voglia studiare la commedia, il cinema fatto di colori semplici, se non studia quel film gli manca un pezzo importante. E questo film è sicuramente molto semplice, non gracile per niente, ma soprattutto molto comico. Ed è un film che ovviamente mi sono molto più divertito a fare, perché è il mio mestiere far ridere la gente, no quando faccio la persona sempre, no, voglio dire, è il mio mestiere far ridere. Perché gli piace sapere che ci sono delle persone, c'era una signora, non so bene, insomma sulla mia pagina che ha scritto un commento bellissimo, che io poi ho ripubblicato perché mi sembrava bellissimo, e scriveva che era impagabile l'emozione che aveva provato a vedere i suoi film, piccolini, ridere a crema belle, e lei si godeva il divertimento dei figli, ma diceva che devo anch'io però, quindi vedere due generazioni così lontane che riescono a ridere per lo stesso film, significa che comunque hai fatto un buon lavoro, ecco, e quindi è un film a cui sono molto, e che probabilmente apre un filone, insomma, mi piace questo genere, voglio fu un uomo. Bene, un'altra domanda che si accaccia questa cosa è questa, come fa l'attore Maurizio Casagrande a acquistare la credibilità di regista nei confronti degli altri attori, perché tu nasci, vabbè, nasci con varie... la musica, la batteria, eccetera, però sei più noto come attore, quindi nell'atto del dirigere un altro attore, anche se mi aggancio con... io speriamo che non è una cala che è fatto in teatro, quindi puoi dire anche dei bambini, anche in questo film ci sono tanti bambini, forse è più facile dirigere i bambini che un collegatore e altrice, oppure no? Sì, ma il meccanismo è lo stesso, con gli attori io vorrei sapere che il nostro mestiere è fatto di moda, la moda di Maurizio Casagrande è che un attore molto serio e molto bravo, no, no, ma lo dicono, Monti Luzan, ma che chi sono? Però, lo dicono, questo è un mestiere fatto così, cioè la voce che gira nel mio ambiente è che io sono un attore di grande qualità, che fa il comico, ma che ha una grande tecnica, grande capacità, quindi tutti quelli che mi si avvicinano, mi si avvicinano, non diceva bene che questo è bravo, però la sua epoca non hanno mai visto nulla alcuni di loro, perché non è che è necessario, quindi questo è un mestiere fatto di moda, voglio dire, di correnti, e quindi seguendo questa corrente, con gli adulti è molto facile, perché mi si avvicinano sapendo che impareranno qualcosa, o perlomeno credendolo, ecco, esatto, perché mi dicono, è bravo, e quindi sape le cose, ma vado da lui e imparo. In realtà poi, di fatto, gli attori, soprattutto quelli un po' più importanti, sono molto rigidi, quindi molto difficili, l'ombra, il giocattolo, e invece i bambini ti insegnano esattamente come fare, perché se tu accendi la luce del divertimento, ma per divertimento io non intendo il fatto di far ridere, o far... gli americani, gli inglesi in generale, chiamano questo mestiere, quando dicono si recita, dicono giocare, no? Usano play, non usano un termine così, certe volte drammatico, come recitare, che sempre lì si dice, e a fucine, e a far fin di essere un altro, perché poi esattamente quello che tutti noi abbiamo fatto quando eravamo bambini, cioè, far finta di essere qualcosa, a me piace il fulcana, mi ricordo, perché volevo il cane, e non me lo compravano, o non lo prendevano per stata, insomma, un cagnolino, e i bacini di un cane, e quindi una ciotola, una giardella, pensate proprio, cioè, per piccolino, in realtà io stavo... no, lo sapevo, ma ero una delle prime interpretazioni della mia vita, stavo facendo il cane, quindi facevo finta di essere un animale, quindi camminavo con un animale, se tu hai un bambino, gli fai capire quanto è possibile essere, facendo finta di essere qualche altra cosa, mentendo così sfudolatamente da diventare levi, e i bambini sono straordinari, in questo, se riesci a non farmi recitare, perché invece li trovo inguardabili, quando i bambini sono quelli che si mettono e fanno la particina, sono di una noia mortale, quasi quanto certi attori adulti che conoscono, però voglio dire, anche attori molto importanti, che sono così metodicamente incapaci di credere che quello che stanno facendo è vero, c'era il grande Stanislavski che diceva, si mantiene l'ultima fila, e diceva, non ci credo, che secondo me è tutto lì il gioco, se io riesco a farti credere che sono bello, boh, per esempio di Salerno, è vero che sono bello? Assolutamente. Sono un grande attore, se ci sono riuscito a farlo 10. Visto che il tempo a nostra disposizione è poco, ti faccio una domanda ultima prima di passare la palla al mio direttore, ma curiosità, è un po' credo, ritengo, che non ti si vede in tv, ricordo la diciamo i Carabinieri, l'ultima mi sembra è quella che hai girato con i proietti, è una scelta oppure non ti stanno proponendo nulla di valido, hai deciso tu di non fare il tv? Allora, io faccio questo mestiere ed è da privilegiato, perché non essendo uno che in questo momento della sua vita ha il problema di arrivare a fine mese, il problema che puoi cercare, moltissime persone hanno, quindi non mi permetto mai di entrare nelle scelte, però finché io non terrò il problema di dover spendere, cioè dover pagare l'affitto, quello che sia, io cercherò sempre di fare quello che mi piace innanzitutto, in questo momento la televisione io la trovo quasi inguardabile e allora le fiction sono bruttissime, sono girate male e io allora che succede? Io dico là, ma anche quella che ho fatto con i proietti, che non mi è piaciuta, io quando sono andato a vedere ho detto a regista, ho detto tu devi ringraziare che io è dei 50 anni, che sei a 10 anni che fai da buffare le pacche, perché lingua è alta, cioè non è possibile che è così brutta questa, non posso aver recitato così male, e invece è perché erano stati presi dei momenti sbagliati, c'era una scena in cui eravamo 15 persone in una stanza, tutte messe come spesso quando il regista non sa che fare ti mette e poi non pensa che tu che stai sentito laggiù dovrai parlare con lui sotto voce, no? Cioè se tu non la pensi prima, la scena, ti trovi con la gente che sta nei posti sbagliati, che purtroppo è così, se ti rifai il regista sapete chi ha fatto, invece lui non lo sapeva, perché in televisione bisogna prima conoscere delle persone e poi imparare a fare delle cose, e quindi lui stava lì e io mi sono trovato in una situazione drammatica in cui c'ero a un certo punto un'inquadratura, io l'ho alzato e me ne sono andato, stavo io al bordo fotogramma, io ho visto solo la prima, la seconda non avevo avuto il coraggio, c'era mezza faccia, puricampo, ma la cosa più bella è che si sentiva la mia voce che diceva una cosa prima, poi staccava su di me, che stava chiedendo la bocca, cioè ho finito di parlare, e rispondeva un altro che non c'era nel linguadratura, per cui io, che sono io, non capivo chi aveva parlato, io, e immaginavo la gente che stava vedendo la cosa mentre faceva la vostra, la renta, la madre e sta cosa, non aveva capito niente, allora, in questo incubo, io ho detto, ma perché io devo fare questo mestiere così bello e così inutile, perché a che serve, vado a dire, se fai una cosa brutta, e allora, dico, non lo faccio, per cui mi arrivano delle proposte che non mi piacciono e per ora dico no, poi stimo che gli fa una cosa brutta, sappiate, ma c'era la outfit. Grazie a tutti. Bene, passo la parola, no, non stai, stai, a Cercetco, che continuerà la intervista. No, a interrolarmi. Tu ti hai fatto fare una chiacchierata da musicista. E' uno studiore. No, io, vada, volevo un po' affrontare il discorso, ovviamente, musicale, dello spettacolo che stai portando a delle palme, che si chiama e la musica mi gira intorno. Volevo aprire con questo spunto, anche un po', insomma, brutto, negativo di oggi, che c'è stata, insomma, la notizia della morte di David Bauer, per chiederti subito, prima di dirci di cosa ti tratta, di cosa tratta il tuo spettacolo, di quali sono i tuoi miti musicali? Tu prima ci hai raccontato anche un aneddoto e anche il motivo del perché hai scelto di fare questo, proprio quando è stato l'Evento Motiv che ti ha fatto ispirare in questo spettacolo, quindi, insomma, che miti ha come Alizio Casagrande dal punto di vista musicale? Guarda, così mi ricordo o... Non mi hanno servito, non mi hanno servito. Una delle cose... Allora, io personalmente amo la musica fondamentalmente quella fatta tra la fine del 60 e la fine degli anni 70. Io credo che in quel decennio sia stata composto dal punto di vista della musica di tutto. Sono tutti quelli, ma adesso sono una quarantina d'anni che si ripete, più o meno a cicli, si riprende quel momento, quell'altro momento. Ma se si ha una certa cultura di quegli anni musicale, ti accorgi che bene o male sono le stesse cose in qualche modo ripetute. Non c'è stato più un fermento di quel livello. E forse non è possibile in tempi brevi, perché è stato un momento talmente in cui... Per cui trovare miti in quel periodo è difficile, perché c'era di tutto. Io un giorno, mi pare proprio alla RAI, c'era una trasmissione che si parlava proprio della musica di quegli anni e si attraversavano e tu cominci a parlare, sai, di cose più semplici, elementari e parli di che cosa io ti parlo, l'esempio, 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 l'esempio... senza basi, ma ci sono miti, sequenze, ci sono tutta una serie di aiuti quando suoni dal vivo, che all'epoca non c'erano, e tu senti delle esibizioni live e tu dici, ma non è possibile che non sono qua, ci stava ancora un nascosto sotto qua, cioè da parte c'è altra gente che sta dando una mano. Invece tutti erano quattro, chi si faceva il canne, chi si faceva l'eroema, evidentemente faceva bene, io faccio l'esempio, non lo so, perché anche dal punto di vista di come stavano combinati, non doveva essere possibile così, perché c'erano la disciplina, c'erano il metodo, invece questi erano scalmanati totali. Evidentemente c'è stato un momento in cui il Dio della musica ha fatto così sulla testa di questa gente e hanno suonato, per cui c'è di tutto, e batteristi, e io sono un ex batterista, c'era appunto gente come Jeff Forcaro, che poi molto, pare che, dicono per la cosa di un'allergia, beh, ho dubbi sul fatto che fossero un'allergia, cioè dovrebbe essere un'allergia, ma invece a vedere a quale sostanza, che secondo me aveva assunto in quantità esagerate, e quindi può succedere, beh, insomma, per curare l'allergia, esatto, sì, lui probabilmente ha i problemi, molti problemi di affettura, e quindi Jeff Forcaro, che dice, un batterista straordinario, che ha insegnato ognuno di loro, cominciava a fare una cosa e diventava una strada di un nuovo modo di suonare lo strumento, vediamo la storia, si prende il basso in mano e rivoluziona il modo di suonarlo, facendolo diventare uno strumento melodico, in alcuni casi, cosa che non era mai stata neanche ipotizzata nella musica rock, quindi, insomma, quali sono i viti di quegli anni? Bellissima, è il posto che condivido, e credo che anche i maestri qui condividono, perché poi posso testimoniare che noi proprio la studiiamo, quel decente studiato, a parte la passione, ma è veramente un momento di intelligenza collettiva incredibile. Invece, ritornando allo spettacolo, se, insomma, io avevo qualche domanda da farti, ma trovavo più carino che tu condividessi anche quella che è quello che ci hai detto prima, quella, quella, l'aneddoto, e ci spieghi anche un po' lo spettacolo. Allora, lo spettacolo è un percorso fatto nella musica proprio, però la musica è assolutamente il sottofondo dello spettacolo. Io penso che la musica sia un'infezione, che se la prendi non esiste un modo per curarti, quindi se entra dentro di te la musica non esce più, e quindi, per quanto tu possa in qualche modo divertirti da cercare di far finta che non ti interessa, e quindi la musica mi ha infettato quando ero ragazzino e quindi sono ancora malato di musica pur non essendo più musicista. Di fatto c'è però che c'erano degli echi che rimanevano, allora in una notte insomma in cui a casa non riuscivo a dormire perché avevo voglia di mettermi a fare delle cose che mi capita spesso, mi metto al computer a cercare ispirazioni e non dobbiamo niente, le serate che non hai ispirazioni, e allora comincio a vedere i vari musicisti dei vari anni, quelli che mi piacevano, e proprio Jeff Porcaro mi viene in mente un brano, per voi sapete che c'è una canzone che si chiama Rosena dei Toto, non so se la conoscete qualcuno di voi, bellissima canzone, che aveva un groove di batteria, un ritmo fatto con la batteria, molto particolare, che i miei colleghi e io, quindi gente molto più brava di me, credo ci fossero in mezzo gente come Gorino, come questi qua, in quel periodo, che erano i miei quasi coetanei, un po' più grande di me e lui, ma insomma, che cercavamo di capire questo signore, perché faceva, perché suonava questo pezzo, e c'era sotto una cosa particolare, che non tanto si capiva, il metro, rovinato il piatto del giratissimo, perché per rallentare, cercai di capire, ruba i tablet, quindi di me, insomma, non riuscivo a capire, e non l'abbia, io l'ho mai capito, e poi, passano gli anni, in questa notte insomma, mi viene in mente Jeff Porcaro, e dice, Jeff Porcaro, Rosena dei Toto, e trovo, per puro caso, un tutorial, di Jeff Porcaro, che è morto negli anni 90, quindi, ancora giovane, ma non giovanissimo, come quando, io lo ricordavo, che si ha tratto di sottotitemi giapponese, quindi una cosa assoluta, che insegna, come si suona, non la batteria, ma quel pezzo, e spiega, quello shuffle, c'è una terzina, come lui la suona, perché l'ha fatta così, e soprattutto, come si fa per suonarla, io lego questa cosa, in marona, a me mi si è capitato, 30 anni fa, a me ci suggero, la madonna dell'arco, no, niente da fare, allora, io sofferminò, e dico, muolo con la Giambara, mi sono messo lì, e, ovviamente, male, ma ho imparato a suonare, quando sono riuscito, a suonare, e dico, e mo' che faccio, cioè, mi si prendano, come a fare una storia, e mi sono diventata, la musica, dei giro, per suonare questa cosa, dal vivo, con il pubblico, cioè, tutto lo spettacolo, in realtà, non è altro, che un motivo, per arrivare a suonare, Rosena, con la gente, lo faccio, tutte le sei, quando hai avuto il produttore, dato che lo spettacolo, oltre ad attraversare, la musica, come fatto di memoria, come fatto di racconto, ma lo faccio anche, come genere, e quindi, io comincio con gli anni 50, in cui si descrive, la storia, ma questa è la batteria, cosa non io, e che devo fare? Niente, dicevo, gli anni 50, attraverso la musica, l'incontro tra mia madre e mio padre, e quindi, musica anni 50, poi gli anni 60, invece, sono gli anni della mia infanzia, e allora c'è una musica, più demenziale, più infantile, sono i brani degli anni 60, che tutti hanno, gli anni 70, invece, sono gli anni della mia musica, e quindi, invece di recitare, per nove minuti, suono la batteria, nello spettacolo, grande sorpresa per il punto, ma, mentre faccio piccoli accendi, di tanti brani, salute, faccio piccoli accendi, di tanti brani, quando arrivo a la cena, faccio qua, sotto qua, allora il produttore, viene e fece, ma è un po' troppo lunga, rispetto agli altri, no, allora l'hanno capito, che ha fatto, solo un farietto, non avviene lunga, se noi di questa, mi hanno avuto spettacolo, la mia, quindi salta zinta, e va bene così, è no. Assoluto se siete d'accordo, e se siete d'accordo, facciamo una suonata che dici, facciamo, ci siamo visti, dieci minuti prima, è proprio una cosa, ma Maurizio, non è, non è un musicista a scarsi, è un musicista, siamo testimoni, suona, non dico la musica di scarsi, come vedete? Vedete se è suona, come vedete, è uno pure, poi vedete, vale lo stesso, non si fa la giacca, scusate, per l'occasione, canterà il nostro maestro di chitarra, Gianluca Capurro, voce e chitarra, al basso del nostro maestro di basso, Arianna, e al piano ci sarò io, non si accorgono, perché siamo nel 69, al 79, in quella decente, esatto, siamo nel 70, ci imbeggiamo, qui si è proprio 72, ma, e andiamo via, e andiamo via, a fare un pezzo, molto calmo, a curio, preso da tarati borghesi, Giovanni Sebastiano Bach, di e così, sic 시청amente, non è sempre più importante, – Grazie a tutti 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 Grazie a tutti